All'estero, crediamo molto, qua si usa poco, però crediamo che sia importante. All'estero è una cosa che si usa moltissimo, negli Stati Uniti, anche in Europa, che è quello di dare le mance alla band. Allora, sia chiaro, noi musicisti che vengono allo Spirit, tutti i musicisti che vengono qua con un gettone per il lavoro che vengono a fare, però troviamo che sia molto bello che anche ci sia un contributo, che ognuno di voi, nella maniera che vuole, che può, insomma, dia qualche cosa, perché siamo in tanti, alla fine se qualcuno ne ha qualcosa, i musicisti tornano a casa molto, molto più contenti, come dire, e tra l'altro, lui non l'ha detto, o l'hai detto, lui ha anche qua il suo disco Nightbreed, che ha delle illustrazioni bellissime, perché lui è anche un illustratore fantastico, quindi io adesso passerò con questo, a raccogliere per luce, se qualcuno, chi voi vorrà, un po' di tips, che è un'iniziativa da cui noi non voleremo, e andremo avanti, e intanto la band si prepara, e tra poco avrete, a parte il Google's Band. Grazie a tutti, 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 gra Grazie. Grazie.